In qualche modo vedo il fenomeno della blockchain, utilizzo questo aggettivo, è un po' paradossale. Perché paradossale? Perché da una parte stiamo vivendo una delle trasformazioni paradigmatiche, utilizzo appositamente questo aggettivo paradigmatico proprio per indicare che una delle trasformazioni più sistemiche, più importanti, con impatti pervasivi sull'economia, sulla società dei prossimi anni. D'altra parte invece abbiamo questi picchi di accelerazione, fenomeni incredibili. Pensate solo alle speculazioni sul bitcoin, sulle criptovalute, adesso tutto il fenomeno dell'SEO. Allora, nella mia testa ho quindi blockchain uguale montagne russe su-giù da una parte, ma in realtà in contemporanea blockchain uguale cambiamento paradigmatico monotono crescente, che pezzo dopo pezzo sta cambiando componenti rilevanti del nostro sistema economico e non solo. Bene, allora, mi piace focalizzare l'attenzione su questo, su questo come reale fenomeno della blockchain. Il cambiamento paradigmatico che sta abilitando, che avrà impatti pervasivi importanti su tutto il nostro sistema economico e non solo. Preferisco invece non eccitarmi eccessivamente, non guardare eccessivamente alle montagne russe legate a questo fenomeno, ai picchi, spesso di natura speculativa, che si sta portando dietro, anche perché rischiano di attirare eccessivamente l'attenzione e di distoggerla invece dal cambiamento reale, perché guardando la blockchain come cambiamento, trasformazione paradigmatica, allora capiamo che tutte le imprese, tutte le pubbliche amministrazioni, qualunque politico, qualunque regolatore, deve porre l'attenzione su quello che sta accadendo per capire quello che sta succedendo e quindi adeguarsi opportunamente. Se questo quindi è il fenomeno, è evidente che come gruppo Digital 360 stiamo ponendo un'attenzione specifica ormai da tempo. Dico con soddisfazione che banalmente siamo stati i primi a lanciare un portale dedicato proprio a queste tematiche che si chiama Blockchain for Innovation e che ha avuto una crescita incredibile negli ultimi anni, sono andato a vedere i miei dati, in un anno abbiamo incrementato il traffico del 1000%, semplicemente proprio perché stiamo seguendo questo incredibile interesse che c'è. Devo dire anche con soddisfazione che mi sono divertito stamattina in preparazione dell'evento a googolare con il browser anonimo, un po' utilizzando le keywords del mondo blockchain, ad esempio blockchain, ad esempio ICO, ad esempio startup blockchain, smart contract, e devo dire con piacere che ho trovato sempre nella prima pagina di Google il nostro Blockchain for Innovation. Questo solo per dirvi come noi monitoreremo, non solo con questo evento, non solo con questo portale, ma con tutti i nostri asset, monitoreremo in maniera molto critica e attenta tutto ciò che accadrà nei prossimi anni.